Con Leonardo De Nicola, allora Leonardo, un grande onore presentare la serata di ritorno a San Giovanni di Walter Stervini dopo la grande esperienza con The Voice. Sì, un arrare e accompagnare in questo viaggio Walter che è il protagonista della serata, naturalmente con il maestro e grande amico di una vita Nino Fabis che non ha bisogno di presentazioni in campo musicale, ormai di grandissima esperienza, e Carlo Beni che interviene stasera come ospite per la serata di San Giovanni. Noi siamo principalmente per accompagnare Walter in questo viaggio dopo lo straordinario successo che ha avuto a The Voice Senior, un successo sicuramente meritato per quello che ha fatto vedere, per l'energia, per la forza che ha messo in questa avventura come del resto sta facendo da tanti anni in questa sua attività di cantante, in questa attività musicale.